Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi nuovo video slime, ovviamente seguendo le vostre ricette, quindi sono super 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 contenta. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel like, attivare la notifica e lasciare un commentino qui sotto con tutte le vostre ricette. Che volete che io realizzi citandovi nei prossimi video? Io non vedo l'ora, sono super contenta, scusatemi, ho malissimo tenere sulla fotocamera. Io spero che questo video vi piaccia, spero appunto che lasciate un commentino qui sotto per realizzare le prossime ricette, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video slime, oggi sfondo super luminoso perché ho comprato tutte le luci nuove e partiamo subito. Allora questo è uno slime semplicissimo con tre ingredienti. Partiamo, il primo ingrediente è il detestivo piatti, io utilizzo questo qui e lo vado a versare riempiendo bene tutto. Ok, secondo ingrediente è un pizzico di sale e andiamo a metterlo qui. E il terzo ingrediente è il colorante alimentare. Vado a mettere un po' di colorante alimentare all'interno, ok? E poi vado a girare il tutto con un cucchiaio. Ok. E a mettere questo composto in freezer per 4 minuti. Ed ecco qui il risultato finale, spero che vi piaccia. Se volete possiamo anche giocarci un po' insieme. Mi raccomando, se questo video ti è piaciuto metti un bel like, iscriviti al canale, attiva la notifica e lasciami un commento qui sotto con la ricetta da fare nel prossimo video. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video slime. Ciao!